buongiorno a tutti oggi facciamo una nuova intervista con una persona che conosciamo già è leonardo facco ciao leonardo buongiorno grazie dell'invito dunque leonardo come molti già sanno è il fondatore del movimento libertario italiano e anche un autore scrittore avevamo parlato in passato del suo libro elogio del contante già dal titolo potete capire da che parte sta con te leonardo dovrei parlare oggi di questa questione delle banche che falliscono come mandarini che cascano dall'albero cioè io ti faccio delle domande da diciamo da da uno che non sa le cose proprio perché sono le stesse domande che mi arrivano per email di moltissima gente che ma cosa succede eccetera eccetera la prima domanda che vorrei fare proprio per capire anch'io è questa cioè cosa vuol dire una che una banca fallisce perché se una ditta fallisce perché non è più in grado di pagare i creditori e quindi fallisce quando fallisce una banca tecnicamente cosa vuol dire significa semplicemente che non ha più liquidità e quindi non è in grado di garantire i fondi che hanno versato i suoi clienti e la liquidità viene a mancare già dall'inizio o se ne accorgono a un certo punto perché troppe persone chiedono indietro i loro soldi contemporaneamente esattamente hai detto la cosa giusta il semplice motivo è questo cioè le banche bisogna fare una brevissima un brevissimo escursus storico le banche oggi non rappresentano più ciò che sono state le banche in passato il motivo per cui sono nate le banche le banche nascono perché tu depositi i tuoi averi i tuoi denari quando il denaro era denaro vero tra l'altro te lo custodivano te lo tenevano in custodia e tu pagavi ovviamente per questo tipo di servizio poi se la banca poteva essere agente economico per prestare parte dei tuoi soldi cioè del tuo capitale del tuo risparmio doveva chiedere a te l'autorizzazione oggi non funziona più così da cent'anni più o meno non funziona più così per il semplice fatto che appunto esiste oggi la riserva frazionaria e per il semplice fatto che oggi abbiamo le banche centrali e quindi c'è un'immissione di liquidità che non ha più alcuna corrispondenza poi in realtà al valore dei depositi esistenti quello che è successo quindi recentemente il fatto che succeda periodicamente perché questi sono cicli economici è legato proprio questo fatto cioè a un certo punto se tutti noi e questo è un dato generale che dovrebbero sapere tutti se domani mattina tutti noi che pensiamo di avere 10.000 50.000 5.000 100.000 euro diciamo in banca o dollari in banca andassimo tutti a richiederli perché vogliamo avere i contanti in casa beh le banche fallirebbero tutte non solo ma io mi ricordo ultimamente ero andato a chiedere a tre mi volevo che avevo chiesto alla mia banca 3.000 euro di contanti e il cassiere mi ha guardato male cioè alla fine pur di non creare un problema ma mi sono accontentato di 2.000 ma siamo a sti livelli praticamente ecco su questo su questo aspetto però bisogna dire che purtroppo noi ci siamo mitridatizzati al peggio cioè ci siamo abituati al fatto che poco a poco ci hanno portati a pensare che per qualche motivo da un lato il contante cioè il denaro non sia un diritto il fatto che tu lo abbia e dall'altra parte ci hanno abituato la società del controllo verso la quale stiamo andando e verso la quale rispetto alla quale tu stai quotidianamente informando le persone ecco è chiaro che c'è una massima che a me capita di usare spesso che non è mia no io sono un comunicatore di seconda mano nel senso che parlo per nome di quei giganti del pensiero economico che io ho sempre letto e studiato e diffuso e pubblicato cioè in realtà non esiste libertà politica senza libertà economica e non è un caso quindi l'attacco recente al contante che però viene avanti da vent'anni a questa parte non è un caso il fatto che esista un articolo del codice civile che ci dice che quando tu porti i soldi in banca in realtà quei soldi non sono proprietà tua ma sono il diritto che tu hai a riscuoterli eventualmente da parte della banca non è un caso il fatto che il controllo delle quantità che tu puoi prelevare sia stato recentemente abbassato e continuamente abbassato ecco questo fa parte di che cosa di economie che all'interno di un nuovo sistema quello che la teoria austriaca economica chiama del ciclo economico ci porta continuamente ad avere delle crisi questa è l'ennesimo io mi immagino che il riferimento cui fai tu è quella della silicon valley bank no è l'ennesimo fallimento delle banche cioè era successo appunto negli anni della grande depressione quando nel 31 mi pare fallì una banca austriaca e poi da lì arrivò il patatrac è capitato con le man brothers recentemente nel 2008 e ancora una volta ci troviamo di fondo questo fatto ora il problema quale è il problema che tutto il sistema interconnesso perché essendo diciamo una crisi di liquidità cioè il fatto che una banca non abbia più i soldi da ridare diciamo coloro che li hanno depositati li hanno richiesti e così via vabbè potrebbe essere un problema di quella banca lì perché è stata gestita male ma il problema è come mai poi questo si scatena in una crisi economica e questo è il grande problema e questo è il punto perché perché tutte le banche in realtà che a loro volta creano denaro proprio attraverso il meccanismo della riserva frazionaria sono collegate ad un'entità unica che è la banca centrale la quale monopolizza il denaro e quindi il grande problema è questo ora non sappiamo ancora io leggendo siccome è fresco il fatto risale a cinque sei giorni fa no io leggendo gli analisti diciamo classici mainstream tutti quanti tendono a dire che no questo non causerà nessun tipo di problema non ci sarà nessuna crisi particolare eccetera beh io sinceramente dubito e dubito per un semplice motivo pensate a moody's no moody's divenne famosa perché quando fallì le man brothers due giorni prima dando la sua valutazione disse che le man brothers era una triple a senza alcun problema beh la stessa cosa è stata fatta da parte di moody's con la silicon valley bank quindi capite che il mondo della finanza che quello per me è molto complicato io non il mondo della finanza non lo non lo frequento perché è pieno di strumenti particolari di impacchettamenti di debiti eccetera ma il mondo della finanza è un mondo estremamente complesso ed elaborato che poche persone poi riescono a comprendere fino alla fine certo è che dal punto di vista invece dell'economia di quella che io nel mio modo di pensare chiamo l'economia del buon senso quello che stiamo vivendo oggi è un mondo folle ecco però scusa c'è una parola infatti che nei telegiornali continuano a girare in questi giorni e che mi suona sempre strana la paura del contagio no ci dice c'è paura del contagio come se fosse una specie di virus cioè teoricamente se la banca fallisce appunto perché la banca b dovrebbe anche lei rischiare di fallire appunto per il semplice fatto che poi le banche si scambiano continuamente tra di loro i debiti e la liquidità cioè le banche sono collegate fra di loro e quindi questo non ricordo se tecnicamente sono strumenti overnight cose del genere sono cose particolari che usano le banche per appunto cercare di coprire le varie crisi di liquidità che comunque hanno tendenzialmente no questo è il problema e il contagio nasce per quello nasce proprio per il fatto che comunque non è che la silicon valley bank sia un'entità autonoma e indipendente che come accadrebbe nell'economia normale che ne so un produttore di pane non ha nulla a che vedere con un altro produttore di pane non è che tra di loro si scambiano titoli si scambiano debiti si scambiano buoni del tesoro o cose del genere mentre invece il monto bancario è completamente interconnesso a livello ormai planetario ok quindi se ho capito bene la banca mette in casa i soliti 100 dollari di esempio che usiamo ne presta mille o meglio 900 con il con la riserva frazionaria obbligata a tenere solo il 10 per cento di quello che presta dopodiché c'ha una una corsa agli sportelli più alta del solito per coprirla chiede i soldi alla banca overnight cioè di notte diciamo alla banca di fianco ma anche la banca di fianco è come se qualcuno fosse andato il suo sportello a prenderli quindi praticamente è un sistema vuoto c'è un sistema vuoto tra l'altro la riserva frazionaria oggi viaggia attorno al 2 per cento non il 10 per cento quindi figurati tu esattamente così è una serie di vasi comunicanti che a un certo punto essendo interconnessi fra di loro in base alla entità di questo fallimento possono portare a conseguenze di contagi enormi è chiaro che qui l'entità di fallimento secondo me è molto importante perché stiamo parlando di centinaia di miliardi e soprattutto stiamo parlando di un settore quello delle tecnologie ambientali che è un settore che dal punto di vista economico non è proprio sostenibile e qui ci colleghiamo a tutte le tematiche ambientali cioè è stato uno di quei settori che sono stati iper pompati da cui nascono appunto i cosiddetti malinvestment cioè fatti investimenti in settori perché la politica li ha spinti per mille motivi che però in realtà non reggono cioè non hanno una produttività non hanno una capacità di rendita tale come invece dovrebbe avere un'azienda sana e questo è la redditività di questi settori è bassissima ed è sempre stata soprattutto sostenuta da parte dell'ente pubblico ed ecco che poi a un certo punto però i nodi arrivano al pettine e qua ci troviamo di fronte ad uno di quei nodi enormi che potrebbe diventare scorsoio per molta gente ma io qui a questo punto però ho due domande cioè da quel poco che sto imparando che sto studiando diciamo sono in prima elementare o sto facendo la bc esiste la fdic che dovrebbe essere la 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 l'assicurazione per i correntisti per eventuali fallimenti di una banca ma a mia volta se ho capito bene anche la fdic ha soltanto un millesimo del totale che dovrebbe coprire contemporaneamente quindi ne copre una ma poi subito dopo non è più in grado di coprire l'altra hai perfettamente capito l'fdic il fondo di tutela dei depositi americani lavora in questo modo ma lo ha già dichiarato che coprirà soltanto una piccola parte del buco che si è creato nella silicon valley bank sì sì è così esattamente così ma perché perché in realtà in circolazione noi abbiamo dei numeri una massa monetaria che non corrisponde assolutamente nemmeno più a un sottostante che è diciamo il prodotto interno lordo chiamiamolo così che anche questo è dal punto di vista dell'economia austriaca non ha nessun senso come valore ma nemmeno il prodotto interno lordo riesce a coprire quindi la produttività il diciamo il fatturato di tutto il mondo riesce a produrre i debiti che esistono l'ultimo dato che io avevo incrociato per quello che riguarda appunto questo tipo di rapporto era che i debiti fossero quattro volte e mezzo il prodotto interno lordo mondiale quindi capisci che i debiti continuano da una parte dall'altra a girarsi e ad essere sostenuti in un certo modo con ovviamente la stampa poi della moneta da parte delle varie banche centrali ma ad un certo punto sono talmente insostenibili che questi debiti che qualcuno deve pagarli e di solito quello che succede è che chi li paga è il risparmiatore se siamo noi gli utenti finali ecco a questo punto molta gente si preoccupa in italia visto che il contagio c'è è possibile che ci sia anche nel 2007 2008 c'è stato cioè l'onda è partita dagli stati uniti ma poi è arrivata anche in europa è possibile anche in questo caso che succeda la stessa cosa assolutamente sì assolutamente sì nonostante ripeto tutto il mondo della comunicazione e della finanza mainstream ritenga pur udando diciamo il condizionale che non ci sarà una crisi pesantissima tipo le manbradas ma anche secondo me se parte la crisi sarà dieci volte le manbradas questo è il mio punto di vista il problema si pone assolutamente ed ecco che allora si pone anche un problema per gli sparmiatori che fare e beh da questo punto di vista io credo che ci sia che sia il momento di mettere il proprio capitale il proprio risparmio almeno una buona parte di questo capitale risparmio in qualcosa che sia reale che sia quello che si chiama moneta sonante o risparmio reale che sono da una parte ciò che esiste da millenni cioè l'oro e l'argento e questo è il primo consiglio che io do ormai da tanti anni eccetera il secondo si chiama bitcoin però su bitcoin qui apriamo un altro capitolo che è un capitolo comunque interessante su che cos'è il denaro sì ecco torniamo restiamo ancora nell'ambito del sistema delle banche per capirlo bene un'altra cosa che come dire mi hanno insegnato è che le banche centrali vengono vengono create con la scuola con la giustificazione del lender of last resort cioè il prestatore di ultima istanza ecco dov'è allora questo punto la fed e perché non interviene e fa il prestito di ultima istanza che dovrebbe fare al svbk come si chiama senza aspettare che inizi un contagio ma perché dei prestiti di ultima istanza ne ha fatti già parecchi per il semplice fatto che comunque il prestito di ultima istanza lo fai con del denaro il fatto che tu metti in circolo del denaro scatena quello che è non abbiamo ancora parlato fino a questo momento il problema dei problemi cioè l'inflazione nel momento in cui tu immetti continuamente denaro in circolo nella nel mercato diciamo è ovvio essendo il denaro una merce di questo ne parlamo appunto nell'oggio del contante essendo il denaro una merce più i metti in una determinata merce sul mercato più ovviamente aumenti l'offerta e più il suo prezzo si abbasserà quindi il suo valore si abbasserà detto quindi che cosa significa significa che tu potresti in teoria lo ha fatto il venezuela 7 8 anni fa tentato perché il venezuela una banca centrale propria tutta politica tutta legata al regime venezuelano e che cosa è successo si è scatenato un'inflazione del 3.000 4.000 5.000 per cento che poi è quello che è successo a weimar eh negli anni venti quello che continuamente succede nel momento in cui ovviamente si c'è si pensa che la banca centrale cioè il prestatore di ultima istanza sia in grado di risolvere questi problemi il problema non si risolve il problema del ciclo economico cioè del fatto appunto che vengono immessi soldi fatti cattivi investimenti con questi soldi questi cattivi investimenti ovviamente non avranno una resa eh ecco perché le aziende in cui si investe o i settori in cui si investe non sono produttivi ereditizi arriva il momento in cui questa bolla deve scoppiare ecco stiamo arrivando alla bolla che scoppia la bolla che scoppia perché qui non è soltanto questione di eh della SVB di SVB ma è del tipo di investimenti che ha fatto SVB e qui ritorno a dire che quel tipo di investimenti tecnologici soprattutto nel cosiddetto mondo ambientalista sono stati investimenti sbagliati e questo queste sono le conseguenze insomma quindi cercando di riassumere alla base di tutto il problema che nel mettere in circolazione più soldi di quanto poi ci sia in realtà offerta di 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 materia di materie prime di di scusa di prodotti sul mercato di prodotti interno lordo sì esatto alla base di tutto c'è la riserva frazionaria cioè il fatto che una banca che ha 50 possa prestare 5.000 o addirittura assolutamente sì assolutamente sì cioè ma non si è mai visto cioè è veramente illogico e fuori da ogni buon senso no io direi cioè quando mai eh tu hai visto una persona che se ha 100 ti presta 500 cioè nel mondo reale non accadono queste cose nel mondo della finanza invece accadono certo la finanza è fatta di equilibri di formule matematiche di eh capacità di finzioni e così via ma alla fine il mondo reale poi chiede sempre il conto siamo arrivati ad un ennesimo conto e più tra l'altro passa il tempo è quello che diciamo gli economisti a usted si chiamano più si scalcia il barattolo e quindi si sposta il problema in avanti e più il problema diventerà grosso ecco ora dobbiamo stare attenti e cercare di capire se eh la conseguenza del fallimento dell'SVB e tra l'altro di un'altra banca perché anche la la First Republic Bank è fallita poi ce ne sono altri che stanno perdendo in borsa eh in maniera eh in maniera drastica 40 50 per cento di perdita del loro patrimonio beh stiamo a vedere che cosa succederà però appunto finché non si rimuove il problema eh cioè voglio dire la crisi del 2008 alla fine cosa è servita? A niente? A nulla guarda il problema io su questo e questo è il mio punto di vista sia chiaro ci mancherebbe altro io da questo punto di vista sono drastico nel senso che il mio il mio modo di intendere è questo bisogna ritornare a un sistema in cui al centro dell'economia ci sia una moneta sana senza una moneta sana ma con la moneta fiat il problema continuerà a riproporsi e riproponendosi il problema il ciclo economico ci porterà continuamente delle crisi le crisi vengono coperte in parte qualcuno ne paga perché nel 2008 tu lo sai solo negli stati uniti d'america sono fallite più di cento banche e un sacco di persone ci ha perso dei soldi ci è finita sull'asta però il mondo va avanti io ho perso la casa in quella situazione lì io ho perso la casa a los angeles per quello proprio c'ero l'ho vissuta l'ho vissuta proprio sulla mia pelle anche ecco vedi tu sei la testimonianza vivente di quello che io appunto dico beh solo che il problema qual è poi la stampa copre ovviamente il caso mazzucco non ne parla la stampa del fatto che il signor mazzucco ha perso la casa no c'è qualche investimento andato male ma poi nel loro nella loro legge dei grandi numeri della finanza sembra che tutto riparta no tutto non riparte ci sono migliaia di persone decine centinaia di migliaia di persone che ci rimangono male ma si può arrivare a casi drastici come quelli appunto di weimar in cui l'intera economia salta per aria il mondo non si ferma non finisce l'essere umano però voglio dire non è tanto bello pensare di aver accumulato dei risparmi e dalla sera alla mattina ritrovarsi col fatto che quei risparmi non valgono niente ecco questo è l'orizzonte che ci stanno proponendo e che più scalziano il barattolo peggiore sarà ecco ma a te sembra a parte diciamo quello che è filosoficamente giusto ma ti sembra fattibile al giorno d'oggi anche solo pensare di tornare per esempio a una valuta legata all'oro assolutamente sì lo hanno scritto decine di economisti questi non è un problema beh il problema magari è convincere quelli che devono farlo a farlo perché non hai ragione io sono talmente antipolitico che per me i politici non esistono volte ma hai ragione sì certo anzi faranno di tutto perché ciò non avvenga sia ben chiaro e quando dico di tutto parlo anche degli ultimi tre anni perché io lo ribadisco e questo l'ho scritto nel mio libro l'esperimento il virus rivoluzionario l'operazione che sta dietro alla tragica farsa pandemica cioè al covid eccetera e così via nasce proprio perché la necessità di un sistema marcio è quello di farci vivere in economie emergenziali e ovviamente economie emergenziali significa cosa significa abbassare il proprio tenore di vita significa non potersi più permettere quello che ci si pensava si pensava ci si potesse permettere significa impoverirsi poco a poco questo è quello che sta accadendo e questo è il mondo che loro vogliono costruire la famosa decrescita felice di cui abbiamo sentito parlare tu devi scusarmi se io cito questioni non tanto filosofiche ma soprattutto politiche ma queste scelte politiche sono tutte figlie di quello di cui abbiamo parlato all'inizio cioè della questione economico finanziaria della questione monetaria sapendo loro che detengono il potere e non hanno alcuna intenzione di cambiare il sistema perché questi ci guadagneranno sempre sapendo loro che quella è la chiave di volta beh la chiave di volte insomma è fondamentale che nessuno la prenda in mano vabbè facciamo visto che è gratis facciamo un esempio ipotetico di colpo tutti riserviscono e si torna alla parità con loro cioè ogni moneta deve corrispondere a una a un pezzo fisico di oro che sta deposto in una banca a quel punto lì che cosa succede nell'economia mondiale ripeto siamo nella fantascienza ma cosa succede dal punto di vista degli equilibri della moneta che circola del prodotto interno lordo che aumenta o diminuisce della cap del valore di acquida di scusa della capacità di acquisto della tua moneta e cosa cambia beh la capacità di acquisto della tua moneta nel momento in cui una moneta è sana tendenzialmente tenderà ad avere maggiore potere d'acquisto questo è quello che succede infatti molto spesso si sente parlare di uno dei grandi problemi che che è l'esatto contrario dell'inflazione cioè la deflazione in un sistema sano in un sistema produttivo eh sano e concorrenziale ciò che accade nel tempo è che la tua moneta acquisisce valore perché perché la produzione con l'innovazione con tanti altri motivi il commercio il libero commercio eccetera ci porteranno ad avere beni sempre di caratura migliore di qualità migliore a prezzi decisamente inferiori quindi quello che accade è innanzitutto ci sarà certamente una situazione di shock nella quale molti anzi gran parte di coloro che oggi vivono di quella che io chiamo la grande truffo che il mio amico carbone ottimo economista francesco carbone chiama il truffone perderanno parecchi soldi perché si ritroveranno ovviamente ad avere dei contenitori vuoti e soprattutto non avere il loro amico che noi chiamiamo prestatore di ultima istanza ma che in realtà è il loro amico che li riempie e li foraggia di denaro fresco e eh dopodiché l'economia cosa accadrà in un ordine spontaneo economico le cose si riassettano normalmente ma soprattutto avremo un'economia sana cioè chi produce chi lavora bene chi fa bene eh chi vende eh non avrà problemi e il problema sarà per i truffatori il problema sarà per chi invece oggi apre una eh come le chiamano adesso start up no questo ha un'idea eh che non sai nemmeno se funziona non sai nemmeno se il prodotto è piacevole se non ci investe un soldo suo ma prende soldi di altri che non ce li vorrebbero mettere perché non ce li metterebbero perché arrivano direttamente dai dalle banche che creano denaro attraverso l'isera frazionaria lui si becca magari un milione di euro per lanciare questa start up si intasca di quel milione lì mezzo milione e lo mette a frutto magari comprando bitcoin poi l'azienda fallisce dopo un anno e quel milione di euro lì chi lo perde lo perde il povero risparmiatore che in quella banca ha avuto la persona che lo ha assessorato e dice ah no ma investi nella start up di pinco palla perché pinco palla sai è una persona che decide di lanciare eh l'energia creata con gli starnuti ma sai che cosa fantastica per l'ambiente eccetera ecco questo è il mondo in un mondo di economia sana queste cose non succedono per l'amor del cielo la truffa esisterà sempre perché fa parte del dna umano gli errori ci saranno sempre la perfezione non è di questo mondo ma senza ombra di dubbio chi rischia paga ma allora in attesa del giorno in cui il mondo rinsavisce torniamo ad una parità con loro si potrebbe almeno fare una cosa almeno tornare a separare le banche dove depositi i tuoi soldi dalle banche che fanno investimenti ma questo senso io voglio sapere che i miei diecimila euro che metto in banca non vengono usati per un investimento facci facci sui i tuoi interessi se vuoi guadagnaci qualcosa ma non andare appunto a investire in una start up dopo per di tutto una volta c'era la separazione fra i due tipi di banche no esisteva la separazione fra due tipi di banche però in parte nel momento in cui comunque esiste un sistema nel quale è ammessa la riserva frazionaria cioè e c'è un piccolo 1836 mi pare che sia quello italiano nel quale quando tu dai i tuoi soldi in banca quei soldi li può disporre la banca come meglio crede il problema non si risolve capisci cioè qui bisogna tornare a un sistema in cui la banca torna ad essere la banca originale cioè il l'azienda che ti custodisce il denaro e che eventualmente avendo poi delle capacità degli esperti te lo investe su tuo interesse però con il tuo consenso in qualche attività ma in un mondo totalmente marcio e fallace come quello attuale non è con la bacchetta magica che si metterà a posto infatti io non credo che ci sarà una capacità di rinsavire da parte della casta politica per poter cambiare dal punto di vista economico il mondo io credo che nascerà e questo è sempre lo ribadisco la speranza che io aggiungo come jolly nelle mie chiacchierate nascerà un sistema alternativo che in qualche modo renderà obsoleto quello vecchio ecco perché scusa se insisto secondo me è il ritorno al sano passato cioè la nuova è la nuova forma è una nuova forma di di moneta con valore fisso che non è quello di più loro cioè noi sappiamo che la storia ci ha insegnato che oro e argento sono state per appunto millenni moneta sana bitcoin ha fatto qualcosa di più ma molto di più ha non soltanto creato l'oro digitale ma ha definitivamente ehm portato la scarsità al suo valore assoluto cioè mentre l'oro perché tu sai che l'operazione inflazione scusa si apre chiude una parentesi la questione inflazione che molto spesso senti citare dai media mainstream no l'inflazione è al 2 per cento quindi va tutto bene siamo al 2 per cento l'inflazione deve essere al 2 per cento senti questo 2 per cento perché il 2 per cento 2 per cento perché si era calcolato ed è stata tendenzialmente la scuola economica di chicago milton fridman a calcolarlo che essendo comunque l'oro la moneta sana che l'umanità ha sempre usato noi possiamo avendo la moneta fiat cercare di far sì che la moneta fiat copi la moneta sana cioè l'oro e venga inflazionata al massimo del 2 per cento all'anno perché ogni anno si era calcolato che la produzione di oro sarebbe aumentato tra l'uno e mezzo il 2 per cento ecco con bitcoin questo definitivamente sparisce perché di bitcoin esistono 21 milioni non ce ne saranno di più uno dice vabbè ma allora mancherà massa monetaria no non è un problema non esiste alcun problema di qual è la massa monetaria l'importante è che la moneta sia e questa è una delle sue caratteristiche estremamente divisibile bitcoin il singolo bitcoin è divisibile fino a 100 milioni di unità quindi non è un problema assolutamente di quantità anzi con una moneta scarsa avremo quell'effetto fondamentale per il consumatore finale avremo che la propria moneta acquisterà valore acquisterà potere d'acquisto e quindi è qui la grande rivoluzione del ritorno al passato ho capito ho capito e ho capito anche che devo ancora studiare molto però comincio comincio a capire qualche cosa senti chiacchierate veloce ma ci voleva ti ringrazio stai preparando un nuovo libro mi dicevi sì sto preparando un libro che si intitola l'economia del buon senso dovrebbe uscire il mese prossimo e parlo un po di tutte queste cose appunto legate a quella che è un po la mia grande scuola di pensiero economica che è la scuola economica austriaca completamente svillaneggiata negli ultimi secoli insomma certo va bene ma quando sarà pronto me lo fai sapere nel frattempo ti saluto e ti ringrazio moltissimo sono io che ringrazio a te e buona serata a tutti i tuoi ascoltatori